Benvenuto su Gossip in the News. Prima di ricordare un famoso personaggio delle serie tv molto noto al pubblico appena scomparso ti invitiamo a seguirci lasciando i tuoi commenti e un bel like per restare sempre aggiornato. Il mondo del cinema e delle serie tv piange la scomparsa di un famoso attore noto per il suo ruolo di in una nota serie tv. L'attore è deceduto il 25 settembre a causa di problemi di salute legati all'età, all'età di 90 anni, mentre era circondato dalla sua famiglia. L'attore era stato ricoverato nei giorni precedenti e aveva festeggiato il suo novantesimo compleanno il 19 settembre. Stiamo parlando di David McCallum, nato il 19 settembre 1933 a Glasgow, Scozia. Conosciuto in Italia perché impersonava il ruolo di Donald Ducky Mallar nella serie tv in CSI. Per prepararsi al meglio al ruolo, in Mecicalum arrivò persino a partecipare a bere autopsie, dimostrando il suo impegno e la dedizione al personaggio. L'attore proveniva da una famiglia di musicisti, con il padre violinista e la madre violoncellista. La sua svolta avvenne nel 1963 quando recitò accanto a Steve McQueen in La Grande Fuga, ma il ruolo che lo rese famoso fu quello di Olya Koaiken, una spia russa nella serie di spionaggio Operazione UNCLE nel 1964. Il personaggio conquistò il pubblico, anche grazie ai suoi distintivi capelli biondi, e gli valse una nomination agli Emmy. Negli anni 70, M.C. Callum fu protagonista di altre serie di successo, tra cui L'Uomo Invisibile e Zaffiro e Acciaio dove interpretò il ruolo di Acciaio. Oltre alla sua carriera di attore, David McCallum era anche un talentuoso musicista, seguendo le orme della sua famiglia. La sua presenza e il suo talento lasceranno un vuoto nel mondo dello spettacolo, ma il suo lascito continuerà a vivere attraverso il suo lavoro e le sue performance indimenticabili. Ricordalo anche tu e lasciando un riposo in pace. A presto.